Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un pareggio a Napoli 1 a 1 che tutto sommato vedo come positivo perché certo poi se parliamo tra bimbi e no bisognava vincere no bisogna vincere il derby, no bisogna vincere col libro, bisogna vincere tutte, parliamo seriamente, il Napoli è secondo me, poi posso sbagliare, la squadra più accreditata a mio giudizio per impensierirci sullo scudetto, questo non vuol dire sottovalutare il Milan, io non sottovaluto nessuno, anzi il Milan credo che alle 12.30 di domani sarà sicuramente primo in classifica perché prenderà a pallate almeno questo immagino la Sampdoria, però continuo a vedere il Napoli anche per conduzione tecnica perché ho conosciuto bene Spalletti, stimo Spalletti come la squadra che secondo me può crearci più grattacapi nella corsa al titolo, ma intanto la venticinquesima giornata almeno per quanto ci riguarda se n'è andata che poi per noi è la ventiquattresima e devo dire che per come si era messa all'inizio Napoli-Inter mi sembrava veramente molto più in palla il Napoli, poi ha risposto bene l'Inter nella ripresa reagendo bene, diciamo che tutto sommato lo vedo come un pareggio positivo. Certo, nella ripresa a un certo punto abbiamo avuto l'impressione che il Napoli non ne avesse più e che noi potessimo andare anche a vincere la partita, però questo non è successo. Ripeto, su tutta questa corsa che sta facendo l'Inter nel suo campionato, diciamoci la verità, l'imprevisto è accaduto nel derby, quando abbiamo fatto quei tre minuti di follia, perché se soltanto lo avessimo pareggiato il derby e come abbiamo pareggiato col Napoli avremmo comunque tenuto, visto anche il discorso sulla differenza reti, se si arriva a pari punti in caso di scontri diretti avremmo tenuto un vantaggio anche sul Milan. Anche adesso non c'è. Negli scontri diretti col Milan risultiamo ovviamente perdenti in caso di arrivo a pari punti, mentre invece con il Napoli risultiamo vincenti, perché il 3-2 di San Siro di novembre e l'1-1 raccolto al Diego Maradona ci consente in caso di arrivo a pari punti di essere davanti al Napoli. Dicevo di un primo tempo che è stato un pochino di sofferenza, ecco perché riconosco al Napoli il ruolo, spiego motivo, poi uno può non essere d'accordo se uno è proprio il tifoso fanatico di un'altra squadra, figuratevi, riconosco al Napoli di essere la squadra che se ricordo bene tra andata e ritorno per tratti di partita ci ha messo più sotto, ci ha messo più in difficoltà. È stato così anche al Diego Maradona perché ci siamo trovati in svantaggio praticamente subito per un episodio sfortunato. Oddio, Devrai veramente in questo periodo gli sta andando tutto male perché mi spiace, poi lo vedremo nelle pagelle, nel prossimo video editoriale e anche stasera la sua prova non è stata all'altezza, aveva un brutto cliente con il quale vedersene, insomma Oshiman e però è stato proprio lui nel forse memore di Giroud che gli si è girato in quel modo, intervenuto troppo diretto il calcio di rigore, dovere andato a controllarlo al VAR, non lo contesto, c'è e quindi Napoli in vantaggio, Napoli in vantaggio sul calcio di rigore con insigne e da lì si è messa veramente in salita perché abbiamo avuto 10-15 minuti in cui il Napoli ci ha pressato veramente bene. Alla fine l'unica occasione che abbiamo avuto nel primo tempo, se non ricordo male, è da un cross di Perisic, un colpo di testa abbastanza centrale di Dzeko, tra l'altro il cross era morbido, Dzeko non è riuscito a dare forza e così siamo andati al riposo sotto di un gol. Devo dire che però abbiamo risposto subito, anche noi abbiamo avuto un pochino di fortuna in un rimpallo, in una palla che è andata a sbattere su Cullibali, insomma Dzeko, il professore, subito è riuscito dopo il colpo di testa a recuperare il pallone e a mettere alle spalle di Ospina. Da lì pareggio, abbiamo preso nuovo vigore, nuova linfa e non so se avete fatto caso, ma evidentemente la lezione nel derby è servita, questa volta i cambi sono avvenuti molto tardi, poi li possiamo discutere, perché Vidal è entrato ancora una volta male, perché Lautaro non è stato incisivo, perché Sanchez come mi aspettavo, anche se in settimana mi ero arreso anch'io dopo la prestazione con la Roma, ma è entrato male anche questa volta, continua ad esserci questa cosa di Sanchez che ne fa una benissimo e poi una male e però raggiunto il pareggio abbiamo avuto sicuramente supremazia territoriale, però poi alla fine abbiamo avuto bisogno, qua lo dico ai soliti detrattori, no? Abbiamo avuto un grande Andanovic in due occasioni, in una probabilmente c'era una posizione di offside, ma insomma Andanovic ha fatto due parate importanti, ha chiuso bene lo specchio della porta, devo dire che poi Schemen nel secondo tempo si è visto poco e la capacità di contenerlo è indubbiamente un plus per l'Inter, qualcosa di positivo per l'Inter, però indubbiamente abbiamo corso i nostri rischi, ad un certo punto ci siamo allungati noi, si è allungato il Napoli, poi ho avuto la chiara sensazione che al Napoli andasse bene questo pareggio, cioè si accontentasse del pareggio, lì forse negli ultimi minuti avremmo dovuto essere un po' incisivi, però ragazzi poi ancora De Vrij ha avuto qualche difficoltà nella ripresa in un momento negativo e comunque va bene così. Poi vedremo le pagelle, ho le mie idee su chi è sufficiente e chi invece non lo è, devo dire che Lautaro verrà giudicato sicuramente insufficiente, però non dimentichiamoci che nel gol del pareggio dell'Inter è lui che comunque mette il pallone al centro per Dzeko e insomma se proprio non riesce a fare gol il fatto come fa Dzeko spesso quando magari non riesce a segnare lui di sacrificarsi per la squadra un pochino devo dire l'ho visto fare anche a Lautaro e che in questo momento va protetto ed è stato devo dire molto bravo Massimiliano Farris nel dopo partita ad insistere sul fatto che ha giocato molto per la squadra, ha provato a recuperare molti palloni perché è indubbio che Lautaro ragazzi in questo momento sia in un momento no. Devo dire che ho visto una statistica, questo è il suo secondo digiuno come longevità, credo che siamo a sei partite senza gol su azione perché non segna dalla gara con la Saleritana, solo un'altra volta ne aveva messo in fila sette senza segnare, era nel 2019 e quasi ci siamo, insomma se Lautaro non fa gol nella prossima va a pareggiare questo record negativo senza gol. Però ripeto l'uno a uno ci sta, sono contento che Dzeko ha segnato anche quest'oggi a Napoli come aveva segnato mercoledì con la Roma, adesso ovviamente la nostra mente va a Liverpool, a questo ultimo gradone avevo parlato di una serie di gradoni a salire, Milan, Roma, Napoli, Liverpool, ve l'ho già detto, io non ho ma poi avremo il tempo di parlarne, non ho questa grandissima ambizione di far chissà che cose in Champions League, mi rendo conto che questa squadra ancora per certi traguardi non è pronta, questo non vuol dire che non possa esserci la sorpresa, però non voglio complicare il campionato, parliamoci chiaro, probabilmente avremo il Milan primo in classifica in questa giornata, ma vuol dire poco, vi ricordo che abbiamo sempre la partita da recuperare con il Bologna, adesso aspettiamo che si completi questo turno di campionato e comunque è un pareggio questo di Napoli che mi prendo e che in fondo va bene così. Un saluto a tutti, ci rivediamo prestissimo naturalmente con le pagelle dopo Napoli-Inter 1 a 1. Ciao a tutti!